Parliamo di terremoto, la stampa nazionale non parla di ischia se non col termine di abusivismo. Anna Fermo, cosa ne pensi? Beh, in realtà io sono molto confusa rispetto a quella che è l'informazione che si sta facendo avanti a livello praticamente nazionale. Sono confusa perché credo che ci sia stato un errore di comunicazione proprio da parte probabilmente del nostro territorio. Purtroppo quando arrivano delle notizie in terraferma devono essere veicolate in un certo modo. Non credo assolutamente che ci sia alcun collegamento tra l'abusivismo edilizio e chiaramente un sisma. È ridicolo pensare che l'abusivismo edilizio sia una calamita per il sisma. I terremoti sono dei fenomeni naturali. Ischia praticamente ha una caratterizzazione geomorfologica, vulcanica. Ha una caratterizzazione che purtroppo non consente di leggere dei dati scientifici, non sono io a dirlo ma sono gli esperti che purtroppo in questa fase vengono veramente inascoltati. Si invitano praticamente come parlavamo anche con il direttore di Teleischia, si invitano in trasmissioni diversi personaggi che sono degli esperti chiaramente in materia urbanistica, ingegneristica. Ma i geologi non vengono ascoltati. Ebbene sul nostro territorio, e questo è quello che conosciamo perché ci viviamo, perché è la nostra terra, sul nostro territorio un terremoto non può essere calibrato solo ed esclusivamente attraverso una scala Richter. Assolutamente no. Il nostro territorio è vulcanico e quando praticamente si muove il sottostrato di un'isola vulcanica che è peculiare, che è un unicum al mondo, purtroppo la rispondenza in termini praticamente di movimenti e di smottamenti è un qualcosa praticamente di diverso rispetto a Amatrice oppure praticamente all'Aquila. Certo è che questo terremoto ha interessato solo ed esclusivamente una fascia dell'isola d'Ischia, una parte alta dell'isola d'Ischia che da secoli conosciamo come una parte praticamente sensibile sotto l'aspetto dei sisma. Ed è Casamicciola Terme alta con la località del Fango, è una faglia, basta semplicemente leggere anche sui testi antichi che raccontano praticamente dei fenomeni e degli avvenimenti. L'abusivismo edilizio io ritengo che non c'entri assolutamente nulla, tozza completamente con quello che sta avvenendo. La sensibilità dell'informazione deve puntare il dito non contro praticamente un responsabile che non c'è perché sarebbe la natura in questo caso, ma esclusivamente deve puntare il dito affinché si agisca per tutelare quelli che sono gli sfollati di oggi, per tutelare, dare garanzie ai turisti che vengono sulla nostra isola. Oggi urge un piano di comunicazione a garanzia dei turisti che vengono, devono essere informati rispetto a quello che è la sicurezza delle nostre strutture alberghiere, perché sono sicure. Purtroppo ciò che è crollato risale praticamente a ben prima degli anni 70, abbiamo strutture praticamente dell'Ottocento. Io ci tengo a sottolineare questo, la programmazione territoriale va praticamente affrontata subito. Quanto diciamo ai danni irreparabili di un evento praticamente come questo, proprio per una comunicazione eccessivamente propensa a voler trovare il colpevole necessariamente nell'abusivismo edilizio, purtroppo è una comunicazione che oggi va combattuta attraverso degli strumenti di comunicazione di garanzia.